Devi assolutamente guardare questo video fino alla fine perché guarda veramente sono tornato giù da Montecucco da pochissimo e praticamente un'esplosione di emozioni mentre registro il video registrato al volo all'improvviso l'audio e la ripresa non è che sono... fanno... fan cagà diciamo dimoscelo le cose come stanno però è il momento quello che ho vissuto senti anche le mie emozioni guardalo fino alla fine ti prego fino alla fine sigla e dopo il video ciao Senti in gran casino perché tira il vento mi sono dovuto fermare per forza perché ho fatto un po' di video che ti metto qui perché mi sono arrivati sopra la testa a occhio della pace li vedrai sicuramente ma qui sopra stanno volando tanti rapaci ma no qui sopra basta, ti faccio vedere adesso adesso vicino c'è da qui proprio a me in giù ho fatto altro che fare la caccia ai rapaci che logicamente non è fatta per far sti giochi anche se arriva a 600 mm e ho provato a farci qualcosa anche perché oggi ne avevo portato la tele con la Canon per far ste cose purtroppo cioè ma proprio pieno 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 sono quasi tentato c'è lì c'hanno uno, due, tre, quattro, cinque rapaci che onestamente da qui li vedo piccoli cioè piccoli io so che roba è dovrei andare a prendere il tele e li va, cinque cinque proprio tutti messi lì che fluttano nell'aria ma non è facile beccarli con questa se me ero portato il treppiede video con la testa fluida e ci avevo il 150-600 un altro falco è lì cioè è da diventamatti così è veramente da diventamatti guarda questo, aspetta, questo può essere la fama eh questo può essere la fama aspetta eh è andato eccolo qui eccolo eccolo è lontano però c'è che è un biancone mi sa dovrebbe essere in biancone va fuori fuoco non mi la fa sto gingillino e lo si è appoggiato a terra vedi si è appoggiato a terra e lo, e lo, e lo che parte e lo che parte flutto e lo, e lo, e lo è andato non lo vedo più è qui da qualche parte eccolo, eccolo è lì che si sta, alza piano, 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 piano bello che muove le ali tra poco scappa dalla faggeta eccolo, 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 eccolo eeeh ciao bellissimo 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 è passato un altro ha perso il fuoco ha perso il fuoco ha perso oh, petta, scusa, eh perché se no me vedi a 720 millimetri che situazione ragazzi cioè, è veramente bella non farò le foto ma me la godo tutta me la vivo proprio questa qui infatti va al volo senza microfono senza me messo niente però io chiare la sua la mette se no mi è cieco eh cioè, veramente me la me la sto a gode adesso hanno spariti cioè, se hanno dedicati alla ripresa si è fermato il vento c'è il vento che si sta fermando molto probabilmente perché cambia il vento cioè, oggi non doveva essere questo vento io apposta non ho portato sta roba perché invece stamattina mi ha cambiato il vento e di conseguenza sono arrivati tutti quanti sono arrivati peccato perché era veramente una situazione da macinare l'otturatore cioè massacravo l'otturatore della 5D eh vabbè andati andati proprio di qua ci sono i deltaplani ma qui e qua lì c'ho lì quelli enfalchi però inutile che li punto perché è proprio contro luce quindi non vedresti niente però cazzo guarda aspetta che ci proviamo eh ci proviamo eh porta pazienza eccolo qui se il mette a fuoco eccolo 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 che si libra nell'aria eccolo guarda che roba è sceso giù oh Dio Dio capisci che a mano libera con giocattolino così non è facile per niente fare ste cose quindi evito di fatte venire il vomito e io di mattim quindi adesso me li stra godo me fermo qui sto qui ma ecco qua questo ce l'ho davanti la faccia questo te lo devo inquadrare per forza io questo è un po' come un'andante aveva i controluci più di più però sopra la testa sopra la testa sopra la testa eccolo bello è tornato cercando di riprenderlo eccolo a sopra la testa si Grazie a tutti. E' facile. Devo portare le nuvolette e poi andarla per ca. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Metto la fuoco, metto la fuoco, metto la fuoco, metto la fuoco, eccolo. C'è ragazzi, penso che... Con questo video l'ho fatto capire perché io non riesco a staccarmi da questi posti. A me questi posti mi danno la vita, mi danno il sangue, mi danno tutto. Cioè, mi è pieno infarto adesso da me, mi è pieno. Cioè, là c'è altra roba ancora. Cioè, guarda, me la sto proprio a godo e me frega niente se non ho il 600 che non ho fatto le foto. Proprio me frega niente. Me lo sto a godo e a pieno. Cioè, quanto dieci minuti solo di sto video ho fatto. Cioè, che roba... Madonna, si alzano ancora, si alzano. No, è impressionante, impressionante. Cioè, adesso mi dispiace per te che mi segui, te voglio bene. Iscriviti al canale se vuoi vedere altre di queste cose. E soprattutto se vuoi stare con me in mezzo alla natura. Guarda che roba, sopra la testa, sopra la testa. Dai, ci proviamo un'altra volta. No, 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 sopra la testa così, no, te prego. Cioè, non ci riesco. Sopra la testa così mi viene un farto. Non lo trovo più. Beh, questa è più facile. Niente, dai. Fammi una cosa, guarda. È stato bello. Io penso che t'ho fatto un bel regalo. E... A sto giro io me la godo. Ciao, iscriviti al canale. È stato bello, veramente. Improvvisatissimo, eh. Veramente improvvisato. Ciao, grazie. .